lei ha fatto tutta questa strada da una parte all'altra del paese e io è tanto che aspetto e adesso lei è qui non ci posso credere nemmeno io e chi ti passa di lì? John Bucky, John Bucky, l'insegnante di storia dell'arte al liceo io potrei anche sbagliarmi ma questo qui potrebbe essere un Jackson Pollock lei è la mia ultima chance, cazzo la mia sola speranza grazie a tutti la mia consulenza è finita riceverà il mio rapporto fra dieci giorni dal mio studio di New York quando è che il Dio dell'arte le ha parlato? la grande arte è la sola verità, quando Dio parla era terrificante, non avevo idea di quello che stessi osservando è brutto movimento reso infinito, nessun inizio, nessuna fine ogni dipinto semplicemente per me esistono solo i folli quelli che hanno un desiderio folle di vivere voi esperti d'arte dei miei coglioni siete tutti uguali tutti cazzo, tutti uno per uno pronto? Elliot Knights, Richard Calmery? eh, ho qui un capolavoro di Pollock l'ho trovato da un rigattiere per soli 3 dollari e pensavo che tu, 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 tu pronto? Pressman, vai, fine art boutique dovrai imparare ad accettarla la verità! no, davvero non dovrei non lo diceva nessuno grazie a tutti Grazie a tutti.